Parte con il detonatore. E il suo whisky. Sai cos'è peggio dell'alcol? L'ipotermia. Non se ci muoviamo. Stiles, con il gruppo di Pearson. Che culo. Daniels, Jusman, aiutatemi a piazzare l'ultima carica. Poi attaccheremo i camion. L'ha fatto. Fortuna abbiamo trovato quelle informazioni. Un altro passo verso il reno. Adolfa, il nostro fiato sul collo. Ora pensiamo a fermare quei camion. Qui ci penso io. Voi controllate se arrivano i camion nemici. Ecco il segnale. Arrivano i camion. Trasporti nazisti lungo la strada. Howard, sali qua su. Cariche innescate e pronte al segnale di Pearson. Aspettiamo che sia nel posizione. Prince avrà una bella sorpresa. Via, 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 brinca! Via, 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 brincavo, brincavo! Help! Abbrinca. Snoop di missina. Asっぱi inforza. Escono dal gama. Ana la nar Soul. Aiuto! Vieni filo di narja. G 不i sappi. As wobili. T号. Ma? Si freddo. Ispettai! Trego! Non è pieno? Sulla strada! Vedo tedeschi sul ponte! Il medico, qua! Il medico, pronto! Saremo questo camion per entrare nella base aerea e distruggere gli espotini. Aiello, tu sarei alla guida. Signor C. Howard, ripulisci la strada. Tiles, tu vieni con me. Daniels, ho un kit medico. Andiamo. Passeremo dai cancelli alle tre. Portatevi in alto per coprirci mentre distruggiamo quegli ultimi camion. E in bocche chiuse, e occhio alle patate. Andiamo! La base è trovata. Ci sono due posizioni elevate vicino all'ingresso. Possiamo arrivarci senza farci vedere. Silenzio, i trucchi sono ovunque. Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al cancello. La base è trovata. No. Grazie a tutti Grazie a tutti Guarda il comandante della base Guarda il comandante 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 Guarda il comanda C'è uno! Troviamo una posizione elevata e aiutiamo i nostri con quegli esplosivi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Controlla l'area cerca dei bersagli Stanno caricando gli esplosivi in quei camion A destra, Pearson è arrivato al cancello Pearson avanza verso Ikarion Grazie a tutti. Sto avvanzando, topidi! Fermiamo quel camion! Spara all'autista! Ufficiali tedeschi in arrivo! Secondo piano! Al battone! Ci sono! Aiuta, Pearson! Pearson è bloccato! Aiutalo ad arrivare agli esplosivi! Buongiorno trovati! Mirson, helo per IBM! E' uno stesso 21 milioni! Andiamo alla prossima posizione Kit medico, Daniels I nostri sono sulla destra Pearson vuole che prendiamo quella torre per dare supporto dall'alto Qui è scoperto? Siamo in giro, corriamo la torre Daniels, un kit medico per te Prendiamo quella torre Daniels, un kit medico per te Kit medico pronto Daniels, un kit medico per te Siamo in giro Siamo in giro Siamo in giro La torre, stiamo avanti Grazie Siamo in giro Non c'è chi non è l'alto Non c'è chi non è l'alto Usano quella torre, Daniels Supporta la squadra di Pearson Siamo in giro 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 Il kit medico pronto Siamo in giro 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 Isro Devo raggiungere quel campo. Tocco! Hilpe! Hilpe! Kana! Oh, oh, oh. Hai ignorato un ordine diretto. Allora mi spedisca la corte marziale. I disertori pagano con la vita. Forse dovrei fare un favore a tutti e tagliare corto. Sergente! Hai chiuso. Non ti voglio nel mio plotone. E matemelo di loro! Andrà tutto bene. Ti rimetteremo a nuovo. È fatto impossibile. E' stato un po' di più.